bella tartufari sono incappato in questo posto che ci voglio fare un giretto perché ho visto che questa parte qui mi piace niente forse porta questo segnale qui non mi piace tanto abbiamo visto anche il gracchio corallino ora qualcuno porta no questa è una cacciola ma cacciola non è premiata porta bene ecco adesso stiamo sulla strada buona le cacciole le premiamo quando stiamo a bianco bravo carino se fosse un pensavo porta guarda l'ha ruinato tutto immaginavo che spettacolo questo posto che ho trovato ci stanno pure quelli chiari è una bomba proprio questa non rompe la radice bello sto posto bello bello la vettura è una meraviglia non me li devo fare questa salivina piccola a piccola su questo posto c'ho veramente paura oggi oggi ho avuto veramente paura perché qua giù ho visto la fototrappola del parco e stiamo in Abruzzo e qua ci stanno l'orsi davvero perché quando ho visto la fototrappola ho avuto paura proprio ce la mettono apposta per fare le foto e le riprese questo è un mollottone brava Espa porta porta Espa niente oggi lavora per lei con i piccini si gli va poi oggi dai cani quando dico che ci hanno aggiornato l'oro ho avuto ho avuto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia come sta attaccando oggi Erpa, quello che mi sta a fare. Mamma mia. No, no, è il tartufo. Vediamo. Mamma mia che spettacolo, mi sono divertito tantissimo. Quando vai sul posto nuovo i cani ti portano i tartufi e ti diverti il triplo perché realizzi che hai trovato un posto nuovo, capito? Lo mettetevi anche ricordato tra l'altro, non è facilissimo. Porta qua è una mamma mia che bocce che mi stanno a portare. Ah, che posto è questa. Seduta amore, seduta. Brava tesoro, brava. Porta vespa! Porta vespa! Mi sa che non ci va a far prenderla. Porta vespa! Porta vespa! Porta vespa! Porta vespa! Ecco qua la galleria del topo. Anche a me mi capitano le gallerie del topo. Oppure annamolisci anche noi, ho voglia. Se mi fanno le domande se ti capi alla galleria del topo se l'ha mangiato tu il tartufo. Qua luna vieni, vieni. I topi se li mangiano i tartufi, ho voglia. Nicolizza che è una meraviglia. Infatti questa non ci sente niente. Qui c'è il topo sotto a questo tronco. Non è facilissimo che c'è stata la danza del topo qui sotto. Qui dunque è un posto che sta imbuttata perché ci sono anche le casciole. Niente, questa la rimettiamo al posto. Basta vespa, fermo. Questa non mi piace. Brava, porta in una porta. Vada, peschiato. Vieni a casa, Jimmy. Bam! Come se fanno così oggi? Gli fanno la bua. Proprio, ancora dobbiamo andare al posto forte. Bravo! Basta vespa, ancora, ancora che vuoi le ricompense senza tartufi. Io non te le do, eh. Basta, te l'ho data. Ti ho dato tutto, amore. Dai, vai. Questi sono furbi. Se ne ne dai 3-4, più gli dai più sta lì. Porta. Mamma mia, che male che gli sta a fare. Poi hanno preso questa grossa botta d'acqua, adesso inizia a piociare. 15-16 tartufi, fanno subito un chilo. Perché pesano, perché sono imbevuti d'acqua. Ecco perché l'uncinato mi pesa una volta e mezzo lo scorzone. Allora, ci fermiamo qua con questa splendida pineta, con questa splendida immagine. Mi raccomando, un pollice in su per supportare il mio robot. Ci vedremo al prossimo video. Ciao!